Il compito principale del servizio stampati è quello di organizzare e ordinare tutto il materiale necessario per lo svolgimento delle elezioni cantonali del 2 aprile. Sono state stampate 270.000 schede di voto per il Consiglio di Stato e 270.000 schede di voto per il Gran Consiglio. Viene conteggiata una parte di riserva nel caso che delle schede siano danneggiate o comunque non utilizzabili. Per la stampa di questo volume di schede, dal momento che la tipografia riceve il documento di stampa, hanno a disposizione al massimo due o tre giorni lavorativi. Dopodiché devono cominciare a fare le prime consegne ai centri di imbustamento. Al termine della stampa delle schede di voto, queste vengono consegnate ai vari centri di imbustamento che procederanno all'imbustamento di tutto il materiale che verrà poi spedito alle cittadine e cittadini. Terminata quest'operazione le buste saranno poi consegnate alla posta che procederà alla distribuzione.